Chi è Bruxelles per chiederci? Condivido l'analisi del fatto che si stia sbagliando tutto in questi anni. L'Europa lo fa scientificamente. È in corso un tentativo sistematico di massacrare l'agricoltura italiana. Sta arrivando il riso della Cambogia, sta arrivando la frutta e la verdura del Marocco, stanno distruggendo il nostro settore della pesca. È scientifico, voglio che l'Italia sia un grande centro commerciale, dove si lavora sette giorni su sette a quattro euro all'ora comprando quello che arriva dall'altra parte del mondo. È scientificamente studiato. Io dico di no. Fossi in Renzi io avrei fatto quel premio al francese. Il vincolo è idiota? Me ne frego. Non lo rispetto. Sono in Italia, ho qualcosa da imparare dalla Finlandia. Non ha paura poi che quando invece andrà a chiedere, finanziando in deficit la manovra, prestiti agli investitori esteri, nessuno ce li dia perché noi abbiamo un grande debito e la Francia non così grande. Il grande debito sta crescendo ogni anno. La disoccupazione cresce e il prodotto interno lordo diminuisce. Noi ogni anno regaliamo all'Europa 6 miliardi in più rispetto a quello che ci torna indietro. Quindi l'Europa non è gratis. Noi abbiamo dato 16 miliardi e 4 nel 2012. Rispetto a quello che spendiamo più che quello che ci torna indietro? No, perché ci sarebbero anche fondi che non riusciamo a utilizzare. Se alcune regioni del sud non riescono a usare tutti i fondi, chiedete agli amministratori di queste regioni perché non riescono a farlo. Per quanto ci riguarda li spendiamo. Però l'Europa per noi è un costo. Quanto si riguarda noi del nord, dice lei. Io parlo delle realtà che conosco. Io ho incontrato gli imprenditori dell'acciaio e mi dicono perché la Cina mette i dazzi sul nostro acciaio e non mettiamo i dazzi sull'acciaio della Cina? Perché ci fregano 60 miliardi col falso made in Italy, il falso parmigiano, il falso formaggio, il falso olio e l'Europa non ci difende? Quindi io dico, fossi in Renzi, io vado a Bruxelles. Se va bene la manovra è così. Se no, amici come prima, tenetevi la merca e io faccio per conto...